La salita del vecchio cimitero di Melito Portosalvo è costellata di scatolette in alluminio e vaschette alimentari. Colpa, si fa per dire, della presenza di tre cani randaggi che da mesi praticamente risiedono in tutta quest'area. Una vera e propria famiglia, costituita dalla madre e dai due cuccioli che, una volta partoriti, sono rimasti in sua compagnia ed insieme vivono sul ciglio della strada. Ma il problema non sono i cani assolutamente docili ed anzi fin troppo spaventati dalle nostre telecamere tanto da rifugiarsi sotto il guardrail, bensì sia la condizione igienico-sanitaria creata dalla benemerenza di coloro che li nutrono lasciando sul ciglio della strada le scatolette di cibo per cani, sia quella degli stessi animali, pieni di zecche ed esposti a possibili malattie date dal randagismo. E' dovere della legge e della comunità assicurarsi che questi cani possano vivere un'esistenza dignitosa, con l'amore di una famiglia, magari che li possa accogliere e le attenzioni di un padrone. E' un dovere dell'amministrazione comunale vigente, rappresentata dalla Commissione straordinaria, bonificare l'area interessata da questi rifiuti sparsi in giro per la strada. Secondo la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1345 dell'11 ottobre 2008, spetta ai comuni il risanamento dei canili comunali già esistenti, ovvero la costruzione di rifugi per cani, ovvero ancora la convenzione con strutture già esistenti nel rispetto delle regole igienico-sanitarie, con conseguente controllo sanitario da parte dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.